Action dal vostro Morisam, buongiorno a tutti ragazzi, ho un video particolare per voi oggi. Alle ore 20 e 20 di sabato 24 settembre 2022 andava in onda il film Io Cero, versione 2.0 antiacaro e la durata di 2 ore e 6 minuti ed è terminata alle 22 e 26. Alle ore 22 e 38 appariva nella chat zaganiana questo minaccioso messaggio. Fantozzi e lei? Cari amici, siamo lieti di annunciarvi che grazie alla levatura ed all'entrature del jet set intergalattico del nostro re Darius, abbiamo finalmente uno sponsor per le nostre future produzioni cinematografiche tanto apprezzate in tutta la galassia. Big Bang Blue, e non ci prendi più. Dovete essere consapevoli che a questo mondo non contate un emerito cazzo.